Matteo un secondo posto che ti porta a questa splendida maglia Eh sì, il percorso era molto bello Arrivavo da una giornata sfortunata a Corridonia Siccome ho rotto il boa Oggi volevo rifarmi, non sono riuscito a vincere Però dai, sono molto felice per questa maglia A chi la dedichiamo? Eh la dedichiamo alla squadra e alla mia famiglia Ma che ti riposa ancora una? Grazie